Sospensione degli arresti domiciliari dopo una lite fra vicini, lotta ai furti d'arancia, arresto per possesso di droga, le operazioni delle forze dell'ordine negli ultimi giorni. Incontro oggi pomeriggio a Biancavilla sul raddoppio della Statale 284 nel tratto Paterno-Adrano presenta anche l'assessore alle infrastrutture della regione siciliana Falcone. Conferenza Belpasso della psicoterapeuta Silvana Rosita Leali sull'importanza del gioco infantile, il primo di tre incontri. A reti inviolate il derby dell'Etna Paterno-Biancavilla nell'eccellenza B di calcio, i giallo-blu mantengono la testa della classifica. Lunedì 21 gennaio 2019, buonasera, ben trovati a Ivi24 Notizie. In apertura vi chiediamo scusa per il protrarsi dell'attesa dell'inizio del Tg derivante da un problema all'impianto elettrico. Due arresti e 28 denunciati e il bilancio dell'attività svolta nel weekend da parte delle forze dell'ordine. Ma sentiamo i particolari nel primo dei nostri servizi filmati. Litiga con il vicinato mentre agli arresti domiciliari e va in carcere. L'arresto è avvenuto ad Adrano ad opera del locale commissariato di polizia. A Piazza Lanza è finito Salvatore Arena, che ha ricevuto la sospensione della misura alternativa il regime di detenzione domiciliare su disposizione del Tribunale di Catania per minaccia, lesioni personali e ingiuria a danno di vicini. Il fatto risale al 28 novembre 2011. Oltre 16 tonnellate di agrumi sono state sequestrate negli ultimi giorni in provincia di Catania dalle forze dell'ordine, in seguito all'ordinanza del questore di Catania Alberto Francini nell'ambito della lotta ai furti di arance nelle campagne del Catanese. 28 persone sono state denunciate per aver posto in vendita merce di provenienza furtiva. In campo polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale, polizia provinciale, forestale e carabinieri. I controlli sono stati condotti a Catania, dove diversi venditori ambulanti abusivi non sono riusciti a dimostrare la provenienza della frutta, per poi ammettere di aver acquistato a prezzi irrisori. Le forze dell'ordine hanno agito anche nelle zone rurali del Calatino e del Paternese per intercettare i veicoli utilizzati dai malviventi per trafugare gli agrumi. Le arance sequestrate sono state donate ad enti di beneficenza. Un 27enne paternese, Marco Di Leo, sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Paternò per resistenza e minaccia pubblico ufficiale e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 27enne ha tentato di impedire ai carabinieri un controllo antidroga in casa sua, pronunciando anche la frase «Se entrate in casa, vi vengo a cercare e vi sparo». I militari hanno condotto comunque una perquisizione nell'abitazione, rinvenendo 25 dosi di marijuana nascoste nel fondo di una pattumiera, un bilancino elettronico di precisione, materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. Politica locale, nota congiunta dei capi gruppo d'opposizione al Consiglio Comunale di Biancavilla, Vincenzo Mignemi e Vincenzo Chisari, contro l'ipotesi di aumento dei compensi dei revisori dei conti del Comune, una probabilità che dovrà essere valutata ed eventualmente approvata nel Consiglio Comunale previsto per domani sera. «Siamo decisamente contrari all'aumento dei compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti», spiegano i due consiglieri nella nota. «Non è accettabile che in un momento di difficoltà per i cittadini al Comune si pensi ad aumentare i costi che inevitabilmente si ripercuoteranno sulla collettività. I capi gruppo sono anche pronti a presentare in Consiglio una proposta per tagliare dal 10% proprio i compensi per i revisori». Incontro questo pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Biancavilla sul raddoppio della statale 284 nel tratto Paternò-Adrano. Presenti i sindaci di Biancavilla, Adrano e Paternò, e anche l'assessore regionale Marco Falcone, nonché il direttore regionale dell'ANAS Valerio Mele, per discutere sui risultati di prefattibilità. Presenti anche i componenti del Comitato Pro Raddoppio. I dettagli li sentiamo nel servizio di Luca Crispi». «Si è svolto questo pomeriggio all'interno della sala consigliare del Comune di Biancavilla l'incontro tra la dirigenza dell'ANAS regionale, i sindaci del comprensorio, l'assessore regionale all'infrastruttura Marco Falcone e i componenti del Comitato Pro Raddoppio 284. All'interno dell'incontro, che ha visto una grande partecipazione di cittadini, sono stati discussi i primi risultati dello studio di prefattibilità sul raddoppio della strada statale 284». «Oggi abbiamo voluto incontrare e convocare qua al Comune di Biancavilla i vertici dell'ANAS, il direttore regionale Mele, il vice direttore della pianificazione, l'ingegnere Marzi, al fine di poter fare un po' il punto della situazione su questa strada che sarà ammodernata appunto la Paternò a Derano. 15 chilometri che saranno ammodernati a doppia carreggiata per 10 chilometri, cioè significa da Paternò sino a Biancavilla, e 5 chilometri poi invece saranno, secondo la sezione C1, significa una carreggiata unica di 10,50 metri, quindi di gran lunga più larga di quella attuale. I tempi. I tempi sono quelli che entro 60 giorni saranno fatte le indagini, è pronto lo studio di fattibilità, dopodiché si darà l'incarico per il definitivo, il progetto definitivo, riteniamo che lo stesso entro 5 mesi sarà pronto. Abbiamo anche il costo dell'opera che si è elevato e lievitato da 100 milioni di euro a ben 157 milioni di euro. Finalmente è stata inserita con la delibera Cipe del 7 agosto 2017 in un finanziamento di 97 milioni di euro, c'è un problema che riguarda ora i tempi e le modalità di realizzazione. Abbiamo chiesto all'ANAS di poter realizzare un momento di incontro e la ringraziamo perché ha dato la disponibilità, perché stasera possano il direttore regionale, il direttore della progettazione, quindi l'ANAS nel suo livello massimo delle istituzioni proprie, dirci qual è lo stato del progetto, i tempi di realizzazione e fin dove è possibile realizzare anche le quattro corsie. Abbiamo fatto un tentativo, quello di essere acceleratori di processi, né più né meno. Processi che magari erano diventati sopiti, per certi versi noi con la nostra azione sociale, la partecipazione alle attività, le riunioni, anche tecniche, hanno portato oggi a un obiettivo, quello di dire che un comitato libero di cittadini esiste e sta facendo la sua parte. Nota del consigliere comunale paternese di diventerà bellissima Anthony Di Stefano sul degrado sulla scalinata settecentesca di Paternò che state vedendo nelle immagini. È uno spettacolo mortificante, scrive Di Stefano, erbacce, spazzatura e i soliti scarabocchi che si moltiplicano. Non si può stare a ripetere sempre le stesse cose, ad assistere al consueto teatrino della retorica. Chiedo da me, si continua Di Stefano, se dalle salinelle alla collina vi sia un progetto di rilancio, un'idea su come valorizzare i luoghi. Pulire tanto per dire che si è intervenuti non cancella la necessità di una programmazione che è del tutto assente e che dimostra come si viva la giornata, eccezion fatta per un impasto di giunta che pare essere divenuto l'unico e per nulla appassionante argomento dei nostri amministratori, chiude Anthony Di Stefano. Nota del Presidente di Presenti Sempre, Paternò, Giuseppe Damanti, alla luce dell'imminente rimpasto nella giunta presieduta dal Sindaco Nino Naso, che dovrebbe condurre in amministrazione Vito Rau per la lista Paternò On e Giuseppe Gentile per la lista Nino Naso Sindaco. Nella qualità di Presidente del Movimento Presenti Sempre, dichiara Damanti, auspico, che il Sindaco valuti in modo strutturato un coinvolgimento più ampio nel prossimo rimpasto già annunciato e che mantenga i suoi impegni con noi assunti circa un nostro coinvolgimento in amministrazione. Mozione consigliare sempre a Paternò del Movimento 5 Stelle per impegnare l'amministrazione a restabilire l'orario continuato di apertura al pubblico dei locali della Biblioteca Comunale mantenendo l'orario pomeridiano anche nei mesi estivi. Crediamo fortemente che una buona amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi a sostenere il diritto allo studio mediante la rimozione di qualsiasi ostacolo di ordine economico, sociale e culturale affermano i consiglieri comunali Claudia Flammia, Martina Ardizione e Marco Gresta. Vorremmo dare un indirizzo politico al Sindaco chiedendo di valutare la possibilità di una nuova articolazione dell'orario di apertura al pubblico e della Biblioteca al fine di non trascurare le sollecitazioni che sono pervenute dagli studenti che beneficiano dei servizi. Questa la chiusura di Flammia, Ardizione e Gresta. Conferenza sabato scorso nella Biblioteca Comunale del Comune di Belpasso della psicoterapeuta Silvana Leali. Interessantissimo il tema in discussione ovvero il gioco infantile. Ce ne parla Chiara Lucia Germenà. Importanza del gioco infantile al centro di una conferenza svoltasi venerdì pomeriggio a Belpasso nei locali della Biblioteca Comunale Roberto Sava. Primo di tre incontri in compagnia della dottoressa Silvana Rosita Leali psicologa psicoterapeuta del forum psicoanalitico Lacaniano socia aderente della Sipsa. Per rendere visibile il concetto di aggregazione comunitaria la dottoressa Leali ha deciso di disporre le sedie in modo circolare con il fine di creare un cerchio attorno a sé. Su ogni sedia era presente un foglio con su scritta una frase di Sigmund Freud ogni bambino impegnato nel gioco si comporta come un poeta. Successivamente è stato fatto un riferimento alle sorelle Agazzi che in passato hanno capito l'importanza di giocare con giochi poveri e ad Elena Montessori che affermò il gioco del bambino non è semplice e puro divertimento ma lavoro. Diverse mamme appassionate e studiosi presenti all'incontro tra cui un esponente dell'associazione Vivi Verde che ha letto un frammento di Pinocchio soffermandosi sulla lettura del paese dei Balocchi. La dottoressa Silvana Leali ha usato Freud come mezzo per mediare l'intero incontro riprendendo i suoi concetti uno tra questi l'inconscio. Quest'ultimo si manifesta nei sogni negli atti mancati e nelle mancanze tuttavia l'unico in grado di scoprirlo è il poeta. Freud ha spiegato quali sono le leggi dell'inconscio un linguaggio che agisce e che si manifesta nel bambino che, giocando ricostruisce il suo romanzo familiare uscendo fuori dal principio di piacere e mettendo ordine grazie alla creatività dettata dal gioco. L'esempio fornito dalla dottoressa Leali di Freud e del nipote Ernst ha fatto capire a tutti i presenti la nascita del simbolo e cosa di misterioso si cela dietro ad un gioco o un semplice gesto del bambino. Quando la mamma del piccolo Ernst andava via lui lasciava andare via un rocchetto per poi ricongiungerlo a sé emettendo dei suoni questo stava ad indicare il distacco ed il ricongiungimento percepito nei confronti della figura materna. di servizio nella raccolta dei rifiuti ingombranti ad Adrano segnalato alla nostra redazione da un cittadino che vive nella zona di Piazza Genova attraverso la rubrica Dillo a Ivi 24 secondo quanto evidenziato dal cittadino di Adrano nel mese di novembre 2018 sarebbe stato richiesto il ritiro di una rete da letto che state vedendo nell'immagine attraverso il numero indicato nel volantino della differenziata ad oggi la rete si trova ancora al di fuori dell'abitazione il cittadino avrebbe sollecitato ulteriormente chi si occupa del recupero nella giornata di mercoledì senza però sortire alcun effetto siamo al calcio termine a rete inviolate e con poche emozioni offerte al pubblico pagante il derby dell'Etna tra Paternò e Biancavilla che ha caratterizzato la diciottesima giornata del girone B di eccellenza ma sentiamo come è andata la gara poche emozioni al Falcone Borsellino di Paternò per il derby dell'Etna di eccellenza B di calcio fra il Paternò e la capolista Biancavilla che nonostante due pareggi consecutivi continua a mantenere la testa in condominio con Marina di Raguse e Palazzolo 0-0 alla fine di una gara scialba che per il Biancavilla significa il sesto risultato utile di fila per il Paternò il punticino giova anche se non avvicina alla testa della graduatoria poche l'emozione di una gara in cui è prevalso il primo comandamento non prenderle e quando il Paternò è rimasto in dieci al cinquantatresimo per doppia ammunizione di Raimondi il Biancavilla non ha prodotto granché per portare a casa i tre punti alla fine tutti contenti per nulla il pubblico di casa ha rifiutato infatti il saluto ai rossazzurri appuntamento domenica prossima con il Biancavilla impegnata ad ospitare lo Scordia e il Paternò di scena a Rosario sconfitta interna ad Adrano per il San Giuseppe nella serie C di pallavolo femminile il sestetto adranita però ha poco da rimproverarsi in quanto ha sempre tenuto testa alle Augustane che poi hanno avuto la meglio per 3-0 sentiamo Giuseppe Cantarella sfida importante di volley femminile quella svolta ieri sera all'attenso struttura di Adrano tra San Giuseppe Adrano e Augusta una partita vincente che ha consegnato la vittoria per 3-7-0 all'Augusta che lotta tra le prime posizioni della serie C femminile Girone C il San Giuseppe Adrano neopromosso della serie D lotta per la salvezza dopo la vittoria a Siracusa contro l'Eurialo della settimana scorsa si è presentata in campo più agguerrita che mai infatti il divario fra le due compagini è stato irrisorio come testimonia il risultato dei tre set 22-25 20-25 20-25 20-25 la sconfitta per le pallaboliste adranite si fa meno amara poiché restano terzultime in quanto Avola Gela e Eurialo concorrenti nella lotta per la salvezza hanno perso i rispettivi incontri al giro di Boa di questo campionato il San Giuseppe Adrano chiude con sette punti due vittorie e nove sconfitte nella prossima partita il 3 febbraio sarà scontro diretto con l'Avola l'avevamo preparata al meglio purtroppo queste partite loro hanno molta più esperienza rispetto a noi noi siamo al primo anno di C loro è da un bel po' che fanno la C ovviamente alla lunga poi l'esperienza viene a galla e così è stata ce la siamo giocata siamo stati lì per lì per tutta la partita però nei momenti cruciali è ovvio che la squadra più quadrata se così si può dire ovviamente alla lunga ripeto esce c'è grande rammarico perché forse è stata la migliore settimana di tutto l'anno però niente comunque facciamo esperienze ora abbiamo due settimane per preparare la prossima contro l'Avola che è scontro diretto per la salvezza sicuramente è uno sdoto importantissimo della stagione anche questi erano punti importanti la partita è stata difficile come hai detto tu ci abbiamo creduto fino alla fine siamo stati punto a punto ed è proprio questo che un po' in effetti fa male però è stata comunque una bella partita perché la squadra era forte e abbiamo tenuto cosa è mancato? è mancato un po' di concentrazione nei momenti importanti come purtroppo spesso succede però noi ci crediamo vedremo bene di fare meglio la prossima partita perché i punti ci servono e li otterremo restiamo in tema con un breve servizio che mette in rilievo i disagi per gli spettatori all'ingresso della tenso struttura di Adrano ce ne parla Giuseppe Cantarella una nota negativa della domenica sportiva ad Adrano tra basket e pallavolo e l'ingresso che come potete vedere è ostacolato da un piccolo reginto in pietre rami fegi degli animali e un ingresso disastroso per chi viene a vedere le partite di serie C di basket e di pallavolo quindi concludiamo facendo un invito a chi di dovere a sistemare l'ingresso della tenso struttura che ospita delle squadre e ospita delle realtà di Adrano molto importanti restyling a bel passo per il campo da rugby che reca il nome di Giuseppe Rizzo un giovane atleta ucciso nel 2001 in pieno centro cittadino per futili motivi all'inaugurazione il sì insieme al sindaco Daniele Motta rappresenta la famiglia Rizzo e il campione della palla ovale ormai ritiratosi Orazio Arancio il servizio è stato inaugurato ieri sera a bel passo il campo del rugby dedicato a Giuseppe Rizzo giovane regbista assassinato la mattina dal 22 aprile 2001 al giardino Martoglio per futili motivi il campo a valle dello stadio San Gaetano è stato totalmente rinnovato con uno stanziamento di 20.000 euro seguendo i criteri tecnici previsti per la realizzazione di questo tipo di strutture sportive la realizzazione rappresenta un impegno mantenuto dal sindaco che lo aveva assunto in campagna elettorale la copertura del campo è in terra abbattuta compatta e regolare che permetterà agli sportivi di poter utilizzare il terreno per allenamenti e partite con un buon drenaggio delle acque piovane l'inaugurazione del campo è stata presieduta dal sindaco Daniele Motta presente insieme all'autorità cittadine al manager della nazionale rugby a 7 Orazio Arancio e alla mamma del compianto Giuseppe Rizzo Motta appassionato di rugby davanti alla locale società Fenix ha illustrato i lavori svolti l'inizio dell'opera è avvenuta a luglio con decespugliamento e la ripulitura dell'intera area successivamente si è passati a rendere agibile il terreno da gioco sin dagli anni 80 il rugby è uno sport presente all'interno del territorio di Belpasso che enumera tanti atleti ed appassionati proprio per questo motivo ed ancor di più per incentivare la pratica l'amministrazione comunale continuerà a sostenere il rugby è già in programma la sistemazione degli spogliatoi la riparazione dei fari non funzionanti e l'installazione di una tribunetta per un centinaio di spettatori il vicepresidente della Fenix Belpasso Rugby Fernando Russo ha raccontato gli inizi della società che ha iniziato a muovere i primi passi due anni fa in questo campo ed oggi dopo tanti sforzi vedo un terreno con meno insidie installata una targa che ricorda Giuseppe Rizzo così mio figlio non lo dimenticherà nessuno ha aggiunto la mamma dell'indimenticato regbista scomparso 18 anni fa siamo in chiusura ma prima dei saluti vi ricordo che potete rivedere queste edizioni del TG su ivtv.com oppure su iv24.it potete contattarci tramite redazione at iv24.it ovviamente alla mail o tramite il numero telefonico 095 899 79 31 e potete seguirci sui social sui principali social e anche sul canale telegram è tutto buon proseguimento di serata con i programmi di ivtv buonasera a